Siamo a Milano in Fondazione Cariplo con il Teatro Punchielli, con il Museo del Violino, con il Conservatorio, Monteverdi, con l'Università di Pavia e con la Camera di Commercio. A presentare un progetto importante che è una città barocca per cui abbiamo vinto un finanziamento da parte di Fondazione Cariplo ed è un progetto che serve a tutto il sistema, a tutte le istituzioni coinvolte. Il progetto è di 400 mila Euro, il finanziamento è di 400 mila Euro, il progetto è per fare produzione musicale legata soprattutto ad artisti giovani e per studiare e analizzare strumenti e il suono di questi strumenti ed è un progetto che serve per coordinare un'offerta sul barocco tutti insieme, come città, come sistema Carmona. Analizzeremo e studieremo gli strumenti di Vivaldi che adesso sono a Venezia e grazie a questo progetto noi presenteremo e candideremo il nostro Festival Monteverdi del Teatro Punchielli come festival musicale e operistico italiano di assoluto livello internazionale. Insomma continuiamo a cercare e a trovare fondi e finanziamenti per promuovere Cremone, il nostro sistema Cremone che è unico al mondo grazie a Monteverdi, grazie a Stradivari, grazie al distretto culturale della literia.